Io la sto vivendo bene, nel senso che sia io che i miei compagni ci allineiamo bene, ci allineiamo al massimo, quindi il nostro obiettivo è dare sempre tutto per far bene la domenica e il sabato. Ultimamente non ci è riuscito molto, però già dalla partita di ieri si è visto l'attaccamento alla maglia, si è visto i giocatori che hanno dato tutto per portare a casa i tre punti, quindi piano piano ne usciremo, come diceva anche il mio compagno prima, il Pescara merita di stare in posizione diversa da quella che è ora, però secondo me con il lavoro riusciremo a uscire da questa situazione. È un campo facile, come tutti sanno, Ascoli, però occorre solo che il Pescara faccia il Pescara e magari si può portare a casa un risultato positivo. Bene, succede, quando giocavo io c'è l'altro portiere in panchina, adesso gioca lui, io aspetto il mio momento, quindi tranquillità, facciamo questo sport, questo lavoro, sapendo a cosa andiamo in conto, siamo 34-35 e non possiamo giocare tutti. Io ho 5 anni di contratto con il Pescara, penso che più di 5 anni non si possono avere di contratto, quindi penso che sto bene qui, poi si vedrà, ma ripeto, con 5 anni di contratto sto bene. Grazie. 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 Grazie.